Per la prima volta nella sua storia, questa mattina il Tribunale di Pesaro ha ospitato la celebrazione di una Santa Messa. A ufficiare il rito, l'arcivescovo in persona, Monsignor Piero Coccia, che ha condotto la liturgia da notare ricavato nell'aula della Corte di Assise, Falcone e Borsellino. Stracolma per l'occasione, perché non capita tutti i giorni che un esperto di Tribunali del Cielo si unisca agli esperti dei Tribunali Terreni, in un abbraccio a confessionale rivolto a tutti, credenti e non credenti, agnostici e atei. Perché il Natale ha un valore universale, un messaggio capace di scaldare l'anima anche a chi crede di non averla. L'iniziativa è nata dall'invito del Procuratore Cristina Tedeschini e del Presidente del Tribunale Giuseppe Fanuli allo stesso Vescovo Coccia, che ha accettato subito e con entusiasmo, convinto che ci siano molti punti in comunione tra la vita clericale e la vita dei Tribunali. A partire dall'autentica e forte vocazione per il ruolo, sia di giudice sia di avvocato, ma anche la necessità di lavorare con animo pulito, con rettitudine e cercando sempre la giustizia. Prima volta qui a Pesaro, ero a Pescara, la facevamo tutti gli anni e so che a Dancona si fa. La Messa è soprattutto per tutti noi un momento di riflessione. È stato un regalo che il Vescovo, su richiesta del Presidente, su invito del Presidente mio, ha deciso di farci. Abbiamo ancora una volta sentito delle parole bellissime dal nostro Vescovo e siamo contenti di aver potuto fare questa cosa. Quindi possiamo dire che diventerà un'abitudine, una consuetudine? Adesso non lo so, se il Vescovo vorrà di nuovo accettare il nostro invito, penso che io e il Presidente ci piacerebbe poter continuare questa cosa, certo. L'omelia del Vescovo Coccia, per quanto profonda e toccante, non è stata un messaggio cristiano elitario rivolto solo ai fedeli, come se ci fosse la volontà di non violare la laicità assoluta dell'Aula. È stata piuttosto incentrata proprio sui punti universali di unione tra l'operato della Chiesa e quello dei Tribunali, sulla necessità di riconoscere la fallibilità umana in un clima natalizio che, per quanto turbato dai fatti di Corinaldo, ricordati durante la celebrazione, spinge al rinnovamento, alla responsabilità che ricade principalmente sulla classe dirigente, sulle famiglie e sui genitori. Del Natale abbiamo tutti bisogno, anche strutture istituzionali che fanno il loro dovere in una vita un po' complicata e con una materia da affrontare, non semplice, credo che ancora di più, ma tutti abbiamo bisogno del Natale. Il Natale in mondo ci ricorda la presenza del Signore nella storia e la storia è fatta anche di istituzioni, le istituzioni sono fatte da persone, quindi il Natale ci coinvolge tutti proprio come elemento non solo di serenità, ma anche di grande, grandissima responsabilità. Il Signore si è rivelato, l'abbiamo detto nell'Omelia, la rivelazione è sempre provocazione, una chiamata a, e questo chiede una risposta, chiede responsabilità.